Bene, bello finire con una vittoria il playoff, se la meritavano i ragazzi, ce la meritavamo tutti, anche la società, e quindi sono molto contento. Non è facile giocare queste partite di fine stagione, non c'era niente di paglio a parte la gloria di vincere una partita e la soddisfazione di farlo. Forse si poteva vincere anche 3-1, però vabbè, è andata bene così, quindi complimenti ai ragazzi, ma non solo per questa partita, ma per tutta la stagione, sono molto molto soddisfatto. L'ultima partita di playoff, dopo una stagione complicata, se non c'erano raggiungere tutti i playoff, noi abbiamo giocato il meglio che potevamo, questa partita qua è stata una squadra esperta, alti e bassi, ma abbiamo provato a casa il risultato, sono contento di tutta la stagione, grazie alla società, grazie alla squadra, squadra ottima e fortissima. Grazie a tutti.